Allora, purtroppo la mia colmonica bilaterale è peggiorata, sono dovuta entrare in una struttura ospedaliera per l'ossigenazione, però qui non sono strutture console, è da oggi che non ricevo terapie, non ricevo ospite, non ricevo niente, è una situazione veramente tragica. Senta signora, dal Covid Hotel dove viene tenuta in isolamento è stata trasferita all'ospedale? Sì, sì, sono stata trasferita all'ospedale, però purtroppo sono ospedali veramente non raccontabili e purtroppo qui non hanno neanche la possibilità di girarci in modo scombro, per questo mi richiedevo all'Italia di tornare in Italia, anche oggi stesso, ripeto, sono senza terapia, senza ospedale, senza niente.